Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata a tutti, anche quest'oggi continuiamo sempre con il Vangelo secondo Marco, versetto 43 al 52 del capitolo 14. Mentre stava ancora parlando, arrivò Giù da uno dei suoi discepoli, accompagnato da una folla armata di spade e bastoni, mandata dai primi sacerdoti e dagli altri campi giudei. Giù da aveva detto loro, saprete chi arrestare quando mi avvicinerò a lui e lo bacerò, allora potete prenderlo facilmente. Perciò appena arrivati Giù da si avvicinò a Gesù e gli disse, maestro, poi lo baciò. Allora gli altri furono addosso a Gesù e lo immobilizzarono, ma qualcuno sfodrà una spada e ferì un servo del sommo sacerdote mozzandogli un orecchio. Gesù chiese loro, sono un delinquente così pericoloso da venire a prendermi armati fino ai denti? Perché non mi avete arrestato nel tempio? Tutti i giorni ero là ad insegnare, ma queste cose stanno accadendo perché si avverino le profezie che mi riguardano. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono via. Seguiva Gesù un giovane che indossava soltanto una camicia di lino e quando cercarono di prendere anche lui, egli lasciò cadere la camicia e se ne scappò via completamente nudo. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che si trattava di una folla numerosa che lo incontrò nel giardino. Probabilmente era composta da scribi e dottori della legge, cioè il sinedrio invitati dai sommi sacerdoti e quindi una delegazione ufficiale. E' terribile però il segnale che Giuda aveva scelto per identificarlo, il tradimento con un bacio. Crudele a dir poco, fingere dell'affetto e addirittura chiamarlo rabbi, rabbi, mentre lo puglianava alle spalle. Dettiamo anche come fosse codarda la maniera in cui questa folla affrontò la missione, di notte, lontano da tutti, usando l'inganno, cercando di evitare conflitti con il pubblico che sosteneva Gesù. Il Maestro fa un'osservazione a riguardo, sottolineando che avrebbero potuto catturarlo in qualsiasi momento nel Tempio, poiché insegnava lì ogni giorno. In sostanza li chiamava vigliacchi, per quello che dice avevate paura di prendermi indirettamente. Nel Vangelo di Giovanni notiamo che Gesù fu colui che andò incontro ai Suoi aggressori, che caddero a terra quando rivelò la Sua identità. E in contrasto i Suoi discepoli furono così veloci nel disertarlo, proprio come Lui aveva predetto. Erano così orgogliosi nelle loro promesse, Signore andremo con Te fino alla morte, mentre si trovavano in un luogo sicuro a mangiare l'ultima cena. E poi però erano rapidissimi nel darsela gamba, pur di cercare di salvare la propria pelle. Sappiamo sempre attraverso il Vangelo di Giovanni che Pietro fu colui che colpì il servo del sommo sacerdote. Così, impugnando una spada, Pietro riuscì solo a tagliare un orecchio. E in seguito però, dopo la Pentacoste, quando impugnò la parola di Dio, Pietro trafisse i cuori di migliaia, come leggiamo negli Atti degli Apostoli. Riguardo all'uomo che seguì Gesù e fuggì nudo, nessuno sa con certezza chi fosse, ma il consenso più comune è che sia Marco stesso a firmare il suo Vangelo con questa osservazione. È molto probabile che l'ultima cena sia stata fatta a casa del papà di Marco e che Giuda sia tornato lì per cercare Gesù che era già andato al giardino di Gezzemani. Così Marco si mette velocemente un lino addosso e corre da lui per avvisarlo. Alcuni pensano che sia Giovanni, ma dato che leggiamo che tutti lo lasciarono e fuggirono, presumiamo che anche Giovanni sia fuggito. Riflessione I discepoli fuggirono di fronte al pericolo. Cosa avresti fatto tu? Ci sono tempi difficili per i credenti dietro all'angolo e potresti trovarti di fronte a questa scelta. Padre è difficile comprendere come Giuda, che ha seguito tuo figlio per tre anni, possa fare una cosa del genere. Ed è facile puntare il dito, però anche noi nel nostro piccolo a volte, pur avendoti seguito per tanto tempo, a volte ti si rinnega in altre maniere. Perdonaci, facci riflettere su questi momenti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimo, carissima, ti auguro una buona giornata e Dio volendo ci sentiamo domani. Ciao.